Queste immagini girate da un cittadino, Massimo Tizzi, erano già state acquisite dalla procura di Arezzo. Adesso è stato aperto anche un altro fascicolo, al momento unicamente conoscitivo. Il video ritrae le condizioni in cui versa il viadotto Puleto delle 45 nel comune di Pieve Santo Stefano. Ieri il nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri della procura di Arezzo ha effettuato un sopralluogo proprio in corrispondenza del punto segnalato dall'uomo che si era imbattuto nella struttura mentre era in cerca di tartufi. Ho provato a smuovere del ferro, viene via con le mani, si rompe, perciò mi sembra che è molto più che fatiscente. È una situazione che ovviamente vi preoccupa? Preoccupa, preoccupa sì, molto. Cosa vi preoccupa? Che possa cadere. I uomini della procura si sono recati sotto il viadotto assieme a Massimo Tizzi. Sono stati effettuati alcuni rilievi, foto, video e raccolta di materiale. Il tutto sarà sottoposto ai tre ingegneri a cui il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, titolare delle due inchieste sulla E45, aveva affidato la perizia sulla piazzola di Sosta franata nel febbraio scorso tra le due uscite di Pieve Santo Stefano. Potrebbe essere adesso disposta anche una consulenza tecnica per chiarire meglio le condizioni del ferro e del cemento del viadotto.